qua e verso sinistra tipo dovresti rovinare i remi perché tocca l'elica un po' troppo alta ne va più solo anche questa va bene è un elemento sottile tutto premando e dopo ti giri un giro largo perché potrei partire a parte che prima di partire sono io prima di partire con la motonave un po' di olio, un po' di sego, un po' di grasso Dove ti trovi però quando che ti secco d'ora è il ramo viene fuori e ti può spazer premare e mi recupero con il ramo di prova qui sotto va bene con tutto il sole, ma se sei in due, viene sempre il ramo sul calmo sola bene così va premando, bene così viene così va premando, va premando è poco, poco così e il 2 invece è ferma lì, è qua San Marco, San Tomà andate premando andate Ehi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.